L'ambiente si chiama Società Agricole Fattelipod, siamo in due il mio fratello, abbiamo il bestiame, pecore, trafirmiamo il formaggio e poi lo vendiamo, facciamo la filiera chiusa. Lavoriamo solo il nostro latte e lavoriamo solo ed esclusivamente il latte crudo. Il latte crudo si intende non pastorizzato e non termizzato. Facciamo tre tipi di formaggio, il semicotto che è questo, un altro che si chiama il pastore di Orgosolo e poi il fiore sardo dopo. Secondo me quest'anno ce n'è di più gente, perché assieme al vino magari la gente viene di più, formaggi e vino, perché la gente beve vino, mangia formaggio, di gusto a miglio. Grazie.